Serietà giornalistica Si avvicina il 27 giugno, 44esimo anniversario della strage di Ustica, l'aereo che si inabissò nei mari siciliani dopo essere partito da Bologna. 44 anni di depistaggi, di fake news, di cavolate, di francesi, di scontri, caccia americani, scontri nei cieli, italiani, tutte stupidaggini che sono servite a coprire indicibili rapporti internazionali. La mia ricostruzione è questa e credo che sia quella più vicina alla realtà e alla verità e di quello che poi era venuto fuori subito, perché in queste occasioni succede sempre che in Italia la verità, viene detta subito, poi dopo viene subito oscurata con tutta una serie di depistaggi. L'aereo di Ustica è saltato per aria perché un terrorista vestito da inserviente addetto alle pulizie all'aeroporto piazzò una bomba nel bagno, nel water, che esplose in cielo. E questa è la unica vera ragione tecnica, come dimostrato da tutte le analisi tecnico-scientifiche. Uno è il mandante, il signor Muammar al-Kaddafi, detto Gheddafi, per decenni il capo e riferimento indiscusso di tutto il terrorismo globale. Piuttosto la domanda è questa, chi ha preso il suo posto? Certo sarà difficile perché il signor Gheddafi ha salvato la Fiat, la sua famiglia deteneva il 4% delle azioni di Unicredit, ha pagato i partiti, ha pagato i politici, ha pagato i terroristi di tutto il mondo, ma non solo il terrorismo fondamentalista, anche il resto. Se mi lasceranno scrivere qualche cosa di più vi racconterò, anche se ovviamente oramai non gliene frega più niente a nessuno, ma quanti morti ballano. E non è finita qui, non è finita qui perché Ustica fu il primo atto di un disegno criminale di Muammar al-Kaddafi, il secondo atto fu la strage di Bologna, gli 85 morti di Bologna, poco più di un mese dopo, il 2 agosto, è anche lì un regno indiscusso del depistaggio di Stato, anche lì per coprire rapporti indicibili con il signor Muammar al-Kaddafi. Buona giornata, serio oggi eh? Buona giornata! Grazie a tutti.